. . Cosa succederà in questo terzo appuntamento con il serale? Prima di scoprire insieme le anticipazioni, vi annunciamo che potete seguire la diretta della puntata live su questo post.Diretta Amici 2018 terza puntata oggi minuto per minuto ore 21,12 si parte con la terza puntata del serale di Amici 2018 in onda in diretta tv. .Maria De Filippi entra in studio con l'ospite d'eccezione della serata Diego Armando Maradona. Subito dopo arrivano i concorrenti delle due squadre rimasti in gara.Ore 21,15 un filmato ripercorre la vicenda di Valentina, che si è fatta male durante l'esibizione della scorsa settimana. La ballerina piange a dirotto, temendo di non poter più esibirsi al serale.Valentina arriva in studio per scoprire il verdetto finale sul suo percorso ad Amici. Il medico che ha curato Valentina si collega in diretta e dice che la ragazza può proseguire il suo percorso nella scuola.Ore 21,27 è il momento della prima prova. .I concorrenti si esibiscono con Rita Pavoni.Ore 21,40 i blu duettano con Loredana Bertè. Dritti in seconda fase Matteo, Eilin, Carmen, Brian. .Loren.Ore 21,52 inizia la sfida a squadre giudicata dal televoto.Si confrontano Loren dei blu, Luca dei bianchi. Vince Loren.Ore 22 prova ritornelli Emma Perfect contro Carmen Tink. .Amore Bello.Ore 23,50 per la prima volta, vince la squadra bianca con il 52% dei voti.I blu tutti a rischio eliminazione. Passiamo in terza fase, Biondo, Emma e Irama.Ore 24 vince Irama. .Salva Ima.Tommassini salva Valentina.Ore 24,10 i vari concorrenti si sottopongono al giudizio della commissione di professori interni. Tutti vengono salvati e quindi passano di diritto alla prossima puntata. .Nessuna eliminazione, quindi, per questa settimana.Ore 24,55 la puntata termina con un omaggio a Marco Garogalo, coreografo ed ex insegnante di Amici.Ecco cosa succederà nella terza puntata del serale di Amici 2018 .Le anticipazioni sulla terza puntata dalla 500 alla 1 Amici 2018 di sabato 21 aprile rivelano che i concorrenti della squadra bianca e quelli della squadra blu, saranno chiamati nuovamente a sfidarsi sui brani e le coreografie che hanno preparato per tutta la settimana appena trascorsa.Punto, anche questo sabato sera ci saranno degli ospiti speciali che si metteranno in gioco con gli allievi del talent show. .Possiamo svelarvi che questa settimana vedremo i ragazzi due pari ed esibirsi con Loredana Bertè, Rita Pavone e Francesco Gabbani.E' morto il prof di Amici, Marco Garofalo, i puntati, inoltre, su Valentina, Viglio, la ballerina della squadra .